Allora, lo smart working noi lo conosciamo, facendo servizi alle imprese noi lo attuiamo già da parecchio tempo, in questa situazione già da dieci giorni. Per quello che riguarda la soddisfazione nei confronti del governo diciamo che non è delle migliori, proprio perché la confusione e tutto ci ha reso lontani non solo dal nostro paese, ha reso i cittadini lontani non solo dalla politica del nostro paese ma anche dalla politica europea. Perché a proposito della cartolina citata proprio dal senatore Gasparri, dobbiamo pensare anche a chi fa più vantaggio quella cartolina, a Ursula von der Leyen o a noi italiani? Perché oggettivamente lei ha parlato più per se stessa, ricordiamoci il suo discorso, il discorso di unione, di cambiamento dell'Unione Europea, in una fase di Brexit con la Gran Bretagna e in una fase così delicata dove si è ancora di più vista la distanza, la mancanza di una politica sanitaria nazionale, la politica di un'economia nazionale intesa come Europa e quindi queste sono tutte delle mancanze che gli italiani vedono perché nessuno di noi ha l'anello al naso e di cui sentiamo non solo la mancanza ma ci chiediamo le motivazioni. Non c'è dubbio poi ci sarà da fare tutto un discorso. Sono i singoli stati nazionali che non hanno voluto queste politiche. Però diciamo terminata questa emergenza io credo che poi vedremo l'Europa cosa farà di concreto, non di attestati di solidarietà, però credo che sarà una discussione lunga sull'Europa e cambieranno molte cose probabilmente.